Registro Presenze è un'applicazione dedicata alla gestione dei registri informatici relativi alle presenze dei partecipanti alle attività formative finanziate da FBA. Questo semplice strumento rappresenta un importante passo verso la dematerializzazione e la digitalizzazione dei supporti cartacei nella gestione dei finanziamenti, che consente di abbattere significativamente i tempi di lavoro delle aziende e l'impiego fisico di documenti, azzerando di fatto l'utilizzo di carta necessaria ogni anno per documentare questa attività. Nei soli avvisi pubblicati nel 2016 sono state trasferite sul sistema informatico oltre 490.000 righe di dati di presenza, con un impegno complessivo stimato di oltre 290 giornate di lavoro. La prima schermata dell'app contiene un'adeguata informazione circa le modalità di uso dell'applicativo ai sensi della normativa vigente. Ti verrà chiesto di prenderne visione. FBA fornisce tutte le garanzie per il rispetto della normativa sulla privacy. L'app rileva la presenza unicamente nell'istante in cui viene inviata. Passiamo al login. Toccando l'icona del codice a barre potrai inserire il tuo codice fiscale attraverso la scansione della tessera sanitaria o della carta di identità. Successivamente potrai selezionare la tipologia di profilo a cui corrisponde il tuo ruolo. Completata la fase di identificazione e accesso, appariranno automaticamente le aule attivate dalla tua azienda disponibili nella zona. Potrai all'occorrenza inserire manualmente l'indirizzo della sede dove si tiene il corso. Visualizzati i risultati della tua ricerca, potrai selezionare il corso sul quale effettivamente vuoi registrare la presenza. Se ti sei registrato come partecipante, docente o tutor, potrai inserire la tua presenza toccando il tasto Timbra per te. Non hai con te il tuo smartphone? Nessun problema, puoi usare quello di un tuo collega o di un tutor. Toccando il tasto Aggiungi altri, l'app consentirà infatti di inserire la presenza di altri partecipanti immettendo il ruolo e il codice fiscale di ogni persona, così come fatto per il primo login. Se non ci sono altre presenze da registrare, basterà toccare il pulsante Invia per comunicare i dati al sistema in tempo reale. Utilizzando Registro Presenze ci aiuti a salvare alberi e a rispettare il pianeta. Buona formazione! Grazie a tutti!